perfetto oddio siamo su case animatronics un gioco che costa su pi... ok si dà ho già traduto a quanto pare sono andata a dormire cioè mi sono addormentata ed è mezzanotte oddio cos'era strano dovrei essere da solo qua andrò a controllare cosa è successo? non sono accorto siamo su case animatronics che è un gioco che costa soldi su computer però è gratuito sul telefono quindi ho detto vabbè quindi dico che lo prenderò su tele per prendere la torcia guardala e premi il pulsante d'azione si la vedessi sta torcia? eccola oddio clicca per accendere il tablet il dipartimento ci dà per i nuovi sistemi prendi il tablet no costa una fortuna vabbè direi ah così so c'è oddio ha con lo sfondo tracking mode va bene questa cosa non fa schifo in 10 anni è da tutte le parti ma non rimpiazzerà mai gli umani va bene se lo dici te le batterie muoiono velocemente ci mancherebbe altro ma io se fai attenzione che pole eh devi spengirlo penso che Ben abbia caricatore nel suo ufficio sì posso già muovere accende la torcia allora già c'è il tablet che scassa le scatole se c'è anche le batterie per la torcia me ne vuo eh cioè se serve batterie sì eh cioè il tablet si scarica in due secondi la torcia me la dai di merda e allora che gioco è sì eh questa torcia ma dove l'hai comprata la torcia per bambini di 5 la porta è chiusa pure pure ascolta ma cioè io dove mi trovo sono una guardia notturna ci sono solo io a sto posto direi di sì se sono la guardia notturna ma questa torcia non funziona neanche ma salve quanto ketchup hai mangiato prima di venire qua 5228 e il tuo numero di tele no non penso perché ha troppi pochi numeri però vabbè 5228 e quindi tienitelo lo fa qua sì è la keycard addirittura scusami tizio ma come si fanno e che porta chiusa meglio così tutto chiuso che c'è scritto qua interrogation room in che senso c'è anche la stanza per gli interrogatori cioè scusa ma questo posto dove ci fa la guardia notturna che posto è cioè sono degli uffici perché c'è una stanza degli interrogatori va andiamo al bagno va si è vabbè è ovvio sia tutto chiuso in teoria ci sono solo io che devo sorvegliare penso la scena aperta perché questa è aperta allora boh quello che so è che devo scendere la luce conference room questa è chiusa ci mancherebbe se fosse qualcosa aperto vero dressing room ma si è vabbè hai rotto le par room non c'è 1-1-3 che allora qui sono tornato dove madonna allora qua c'è il tablet però è spento ma serve per le telecamere quindi io non ci devo fare nulla allora se vado di qua allora dressing room di nuovo non c'è neanche prima ah qua è aperto vedi ma che non correre tizio non correre stai zitto si vede nulla che è qua dovrei andare nella stanza ad accendere qualcosa però tutto chiuso ma è chiuso sembra stra questo come interrogazione aspetta corri tizio che non abbiamo tempo da conference chiuso meglio così cioè io devo fare tutto avanti indietro sono tutte chiuse aspetta fammi andare avanti qua sono stato qua non penso non penso di esserci di non esserci già stato ma ci sono porta è chiusa sì facciamo così tutto chiuso bello sto gioco in questo momento sto spiddando sì tutto chiuso palloso dove devo andare tutto chiuso dove cacchio devo andare accendo il tablet sì ma fa schifo sto tablet nessun segnale addirittura forse l'ho trovata no ovviamente perché fa cagare sto gioco ma che cacchio ma dov'è che sta facendo io della mia che sì l'ho già trovato meglio così dimmi che era questo perché non ho voglia di girare intorno alla casa mi sa che sei svegliato sì di nuovo da capo che sogno di me è da che era un sogno mezzanotte devo andare a casa sì che mi chiama adesso che è sto dire niente è meravigliosa no non è meravigliosa non ti ricordi di me no non c'ho voglia è stato un bel momento l'ultima volta ci sono incontrati mi piace il nuovo sistema di sicurezza sì è bello una volta quella volta che hai preso tutto da me e adesso è tempo che te la faccia pagare ma non ti ho rubato trovali qualcosa del passato e vedi se sei davvero in grado beh sì un pazzo no deja vu sì però che voglio rifarmi tutto da capo e poi mi poi mi inculano da dietro anche no eh sì di nuovo di nuovo almeno mi no che gioco di me sì adesso però quando riaccendo il tizio mi mi ripiglia da dietro non è che che gioco di merda che palma ora mi ripiglia da dietro col bastardo figlio di trosa io non mi ricordo neanche dov'era quella sta controllo e soffice è qua vai ah 5228 era mi si piglia cosa ma nel sogno era 5528 ma che vuole sto stupido idiota non è che l'ha cambiata cioè il maiale è sempre qui vero bastardo è sempre qua ascoltami tizio guarda che l'ultima volta si è rianimato sto 7161 madonna che ma è arrivato da dietro non c'è segnale eh ma ma che tablet di merda guarda faccio meglio comprattelo te e riportatelo da casa che cacchio non l'ho neanche visto ma però mi sono dimenticato com'era 7128 madonna mi sono dimenticato di nuovo la falsa che cacchio è com'era 7128 era 7161 si no spingi sto tablet che anche quando dice un segnale battere su spreca lo stelto si ma la forcia di merda non sono le sogni anche qua 7161 vai eh si non è che mi ora mi ritorna mi ritorna quel bastardo no io non mi giro è il secondo è stiamo così mi giro ma vaffan cucchio vai non c'è trovi il secondo pannello elettrico perché uno non ti basta ne vuoi anche due cosa vuoi holy shit è cosa answer the phone ah sono ah 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 non mi dire che tu ma perché t'ha visto che non mi dire che t'ha visto nel sito nero giallo arancione magari e quindi adesso ti sto chiamando ah allora uscite è la parola più oh oh il tizio non era qui vero era in un'altra stanza non era qui vero era qui era qui dai sapevo tutti smos chi è pronto beh ti ricordi no non mi ricordo ti piace il mio regalo ti piace lui ama no chi è che gli piace giocare gli piace molto giocare no ma io no nasconditi nella locker room ma va anche su ah da qua vabbè nascondiamoci si si oh abbiamo trovato uno buono e quindi che devo fare dove rimane qui palloso dove è andato beh dove è andato dove sta andando magari mi sta seguendo sono andato posso uscire neanche arrivato oddio tutto a zoppo lento trova la keycard blu nella locker room per la porta con l'indicatore blu oh io tutto sto blu mi viene mal di sé non posso usare il tablet quando sono nell'armadio perché non posso farlo lezzo sono andato posso uscire io non mi federei tanto io continuerei a stare nascosto per un po' perché hai tre vite sto gioco eccolo infatti oh donna tutto a zoppo donna che gioco di me sono andato ora posso uscire no eh secondo me no senti oh tizio io non ce ho voglia aspetta qua sono andato si sono andato vivi va lento però non ce ho voglia di avere cinque morsi ah era andato qua se uscivo qui ero morto che è la keycard pigliala sta zitto maiale accendi la torcia accendi la torcia però perché l'hai spenta ha spenta la torcia il tablet va almeno possiamo vedere dove è il maialone dove è questo è dove sono io fuori no moto no eh ma non accende la torcia sto coglione eh non vedo nulla eh non accende la torcia non vedo una sea scusami eh no non entra lì maiale no se entra mi incazzo si eh eh ma non accende la torcia ah ora l'accendi ora che ce l'abbiamo nel culo spingeto dov'è se ce l'abbiamo nel sedere non era qua no è però era qua da me madonna che gioco di me è qua i pancake non li voglio io a tizio eh è qua era che è animatronic attaccano i loro creatori un attacco è stato sì ho fatto sì ma stavo leggendo non è ma stavo ma stavo leggendo non è giù sì ma non ha senso stavo leggendo neanche leggere sì ma stavo leggendo dico io ce l'ho la keycard blu sì ma stavo leggendo che gioco di merda allora non leggo la prossima volta se mi devi fare se mi devi impia da dietro mentre leggo è anche da bastardi è questa è la porta con l'indicatore blu oh vai mi dico io secondo pannello elettrico lo trovassi è qua oppure un'altra porta ancora è qua no guarda i fogli non li leggo più guarda fatto passare a voi è qui sembra avevano visto e dov'è l'altro pannello elettrico scusa qua non c'è proprio sì madonna che palla la porta è chiù chiudi tizio chiudi è troppo sì l'altro pannello elettrico io non mi metto a leggere no la seconda ah eccolo mai sono ciecato non si vede nulla oddio cos'è quel coso è un altro ancora è tutto zoppa anche lui no no eh ma io adesso dove mi nascondo ah posso nascondermi va va vai no il tablet di merda non va neanche no chi si mi sa che l'ho visto non direi non voglio dire nulla ma mi sa che quel bastardo è appena uscito da quella porta lì trova nell'ufficio di ben per pigliare il tablet sì ma quello lì è andato lì eh ma chi sono andato è lì palloso ti togli no sono andato perché mi devi mandare gatti giganti tio cioè sì mi piacciono i gatti però mi stanno anche sulle scatole quando mi vogliono tagliare la testa sì e dove trovo l'ufficio di massaggio sì tutte e due no come hai fatto a vedermi le giù e dove andavo lì che è tutto è chiuso ma va abbiamo un'ultima vita e basta sì è una stanza di ben trovala te la stanza di ben maiale di merda e ma dov'è la stanza di ben è questo che no quando c'è ma sì 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 questo gioco non lo puoi giocare se sono veramente incinta perché non ha senso sì ho capito tizio ma mi arrivano in faccia manca avessi biscotti la scritta biscotti gratis dietro la schiena da lì spunta l'altro stronzo e che fa corro che devo fa eh ma qua mi sono bloccato di nuovo io ho chiuso no però che pa non è possibile vada venne da me venne da me io che devo fa che devo fa che devo fa eh checkpoint di nuovo non posso usarlo perché ho finito le vise ma c'è un po' stardata e quindi due ore due ore per una vita di merda quindi te devi dirmi che io devo andare su happy mod a installare una mod del gioco oppure pagare dei sì vabbè vaffanculo vai compra le vite infinite compra le vite infinite che tanto madonna bastardi hai visto se compri le vite infinite noi ti diamo tanta dolciumens ma che gioco di merda quindi te devi dire che io devo andare da happy mod a installarmi una mod delle vite infinite di sto gioco di merda oppure comprarne ma si sa già che tanto non le compriremo mai quindi questa era la parte 1 di case animatronics devo rifarmi tutto da capo allora io non so se ci sono altri tipi di mod su happy mod ovvero che oltre alle vite infinite ti dà qualche cosa di poteri che puoi essere invisibile quindi se ci sono quelle cose dovrò per forza aspettare due ore e non prendere la roba di happy mod è nulla purtroppo purtroppo questo gioco fa schifo vedi se te non paghi dal computer paghi dal telefono ma comunque paghi lo stesso o spendi due ore o paghi oppure scarico una mod e si gode e nulla che gioco di merda ci vediamo al prossimo video di gatti e non so se era un cane ma ne ho visti tutte le due uscire nello stesso momento quindi perché il cane non è andato dietro al gatto ma è andato da me che io ho fatto io boh non lo so non lo so che gioco di merda davvero gioco di merda proprio tantissimo